Ma caro fosse stata una storia che poteva consentire la speranza di avvicinarsi e quindi di ripetere le gesta leggendo il libro, ci siamo liberati dalla coscienza perché sappiamo che questo è tecnicamente impossibile nonostante ogni ottimismo che professiamo anche in questa sede. Ma penso in linea con le riflessioni che sono state svolte che la mia presenza sia doverosa in questa sede per rispetto nei confronti del generale Vaccaro Iprilis, della famiglia Vaccaro, di Mario Pennacchia, la cui attività è un'attività importante e significativa anche sul versante delle storie e degli scritti, della Niene e del mondo della Lazio perché come è stato ricordato opportunamente nel libro la vita del generale Vaccaro è una vita che si è svolta avendo alcuni poli di riferimento, il polo di riferimento ovviamente del canottieri aniene, nove anni presidente, la Lazio, la realtà della federazione, l'impegno al CONI, una dimensione ovviamente che viene ricordata nelle prime pagine del libro che ha dei punti di riferimento di tanti di noi, la famiglia, la dimensione della realtà familiare, le attività che hanno contrassegnato anche la propria famiglia e ho visto con un pizzico di attenzione ulteriore il fatto che la famiglia Vaccaro aveva un'attività tipografica e quindi come tale nelle prime pagine del volume si ricordano anche le difficoltà collegate agli impegni familiari, collegati alla presenza dell'impegno tipografico nella sua famiglia. E poi una realtà che è una realtà che trascorre con grande attenzione, con grande logica di separatezza nel collegamento tra quella che è la dimensione del mondo dello sport in quegli anni e la dimensione dello scenario ovviamente politico, i vari passaggi politici che ci sono stati, passaggi che fanno parte della storia del nostro Paese. Quindi c'è una dimensione che vede qui tanti amici, persone che hanno conosciuto il generale Vaccaro, persone che come me non l'hanno conosciuto, che comunque hanno un comune denominatore che è quello di avere affetto nei confronti della sua storia e delle realtà che hanno contrassegnato la sua storia. Una storia importante, una storia di successi, non una storia di una persona che comunque ha dato la dimensione di un impegno che mai è venuto meno. Ecco, io leggendo il libro che ho letto appunto per rispetto nei confronti del presidente Vaccaro, della sua famiglia e di Mario Bernaccia, sapendo che comunque mi avrebbe potuto fare oggi o nei prossimi giorni delle domande, quindi avrebbe con facilità individuato se poi il libro l'avessi letto o meno, ho collegato questo libro e questa vicenda a una dimensione di un recupero importante che in questo periodo sta avvenendo, di tutta una memoria storica del nostro calcio. Il 12 settembre ero a Vercelli per il festeggiamento del primo centenario, del primo scudetto della Pro Vercelli e ho avuto il piacere di avere dai dirigenti della Pro Vercelli un premio che loro hanno attivato intitolato a un ex presidente della Pro Vercelli che è stato presidente della federazione, Luigi Bozzino. Sabato ero a Novara, per i cento anni del Novara e la settimana scorsa si è inaugurata qui a Roma la mostra che ricorda Silvio Piola, i cui parenti erano presenti sia a Vercelli che a Novara perché hanno contrassegnato un momento della storia anche di queste due grandi società. C'è quindi in generale una riscoperta di quelli che sono i valori della storia anche del calcio, dei suoi personaggi, dei suoi protagonisti che in qualche modo diventa per noi anche un momento di rafforzamento e di sicurezza rispetto alle tante problematiche che quotidianamente viviamo. Il calcio oggi ha un ritmo frenetico, ecco nel libro si ricordano i 71.000 tesserati da 1933 e le 20.755 partite ufficiali. Oggi siamo a milioni di tesserati a 700.000 partite ufficiali. C'è quindi una dimensione di uno stress dato dagli impegni di tutti quanti i giorni, dai problemi che abbiamo in relazione alla realtà di muovere un movimento così importante come il calcio che ci portano nella necessità di avere dei punti di riferimento e avere anche la consapevolezza che la storia del calcio, come ricordava Rocco Crimi, passa attraverso dei problemi che poi periodicamente si rinnovano e quindi parlare dei bilanci, della moralizzazione, parlare naturalmente della doppia B ho visto il passaggio in cui si parlava dell'ipotesi della doppia B, parlare degli stipendi, del freno degli stipendi della logica di mantenere una dimensione equilibrata tra gli stipendi delle grandi società e gli stipendi dell'epoca parlare del volontariato della dirigenza sportiva perché anche questo si evidenziava nel momento in cui si notavano una volta portando nel fondo riferimento diretto del Presidente Vaccaro, altre volte nella logica di collegarsi anche a quelle che erano le realtà storiche dell'epoca gli stipendi rapportati alle varie funzioni esercitate. Quindi la storia è importante e la storia, ed è il ringraziamento che io faccio al Presidente Malagò, è vissuta nel presente. Io spesso utilizzo, quando faccio qualche intervento, una frase di Sant'Agostino.